Greta Rossetti ha condiviso con i suoi fan una notizia inaspettata riguardante la sua salute L'ex partecipante del Grande Fratello ha rivelato di dover affrontare una malattia che la costringe a un'imminente operazione chirurgica Periodo di sfide per Greta Rossetti Ultimamente, per Greta, ex protagonista di Temptation Island, i tempi sono stati duri e i suoi follower più attenti hanno presto intuito che qualcosa non andasse per il verso giusto Dopo aver lasciato il Grande Fratello, Greta ha mantenuto una presenza costante sui social, condividendo dettagli della sua vita quotidiana La sua base di fan si era già insospettita quando Sergio Dottavi, con cui era stata legata, è scomparso dalle sue pubblicazioni Nonostante le voci di una possibile rottura, Greta ha chiarito che il suo profilo è personale e non legato alla sua vita di coppia Tuttavia, ora queste discussioni sono state messe da parte per focalizzarsi su un tema più serio e allarmante che Greta sta affrontando di persona La confessione a cuore aperto sui social Non sono tranquilla Pochi giorni fa, il 2 maggio 2024, Greta Rossetti ha deciso di aprirsi con i suoi follower dopo aver ricevuto numerosi messaggi privati che esprimevano preoccupazione per il suo stato In risposta, ha ammesso di essere molto preoccupata e ha rivelato la ragione del suo malessere Mi dite che ho la faccia triste, non sono triste, ma ho scoperto che devo operarmi a causa di una cisti ingrossata Greta ha poi aggiunto di soffrire di una patologia correlata alla cisti, per la quale è necessaria un'operazione urgente La lotta contro l'endometriosi In un momento di apertura, Greta ha confidato ai suoi follower di Instagram di essere affetta da endometriosi Soffro di endometriosi, la cisti si è ingrossata e mi fa molto male Ho fatto il controllo medico e mi hanno detto che devo operarmi subito Va a comprimere il nervo della gamba, ho un dolore incredibile Finché non mi opero, non sono tranquillissima